Ehi Jackson! Champagne! È una cosa stupenda! Il mago! Incredibile! È caldo! Ah sì, Big Bird dice che non c'è ghiaccio, mancanza di comunicazione fra il catering e la sede. Le coperte refrigeranti dell'ospedale abbassano la temperatura di un paziente in pochi minuti, no? Raffredderebbero qualche bottiglia. È ridicolo? È in tema con la serata. E non posso andare via. Per favore, puoi andare a prenderle. Cosa? No, ma il mago... Ti prego, ti prego. Va bene. Grazie.